In questi anni la mancanza di visione e l'incapacità delle amministrazioni non ha permesso all'unico istituto di istruzione superiore presente sul territorio di crescere di confermarsi punto di riferimento per l'intero comprensorio. Più di un anno fa la provincia di Salerno affidava i lavori per la messa in sicurezza dell'istituto Vico dei Vivo di San Marco di Castellabate. A distanza di un anno possiamo soltanto raccontare come i lavori siano a metà dell'opera, dei continui sopralluoghi tecnici e funzionari della provincia, dell'improduttività della ditta esecutrice, dell'assenza delle istituzioni. Lo scrive in una nota stampa il capogruppo di opposizione del comune di Castellabate, Alessandro Lo Schiavo. Anche questi ritardi, continua Lo Schiavo, contribuiscono alla fine di una storica istituzione scolastica. Per diritto di cronaca ricordo che la provincia paga tutt'oggi un fitto esorbitante, 179 mila euro all'anno, per il mantenimento di una sede ad Agropoli in Viale Kennedy, un ente, la provincia, proprietaria di due strutture, la ragioneria Gian Battista Vico ad Agropoli ed il Vico De Vivo di San Marco di Castellabate, pronte da subito a poter ospitare aule e laboratori presenti nella sede di Viale Kennedy, proprietà quest'ultima che veniva costruita per dare ospitalità alberghiera e non scolastica. Con i soldi risparmiati potremmo migliorare, sottolinea Lo Schiavo, le strutture esistenti, potenziare i trasporti per la sede di Castellabate, invece ci si ostina a pagare un privato per la fornitura di un servizio di dubbia utilità. Tutto questo avviene da noi al sud, nel Cilento, nel silenzio assenso delle istituzioni. Da qui la mia richiesta al presidente estrianese, conclude Lo Schiavo, per conoscere i motivi di questi evidenti ritardi, per imprimere un'accelerazione, tale da permettere il rientro in sicurezza a settembre, di istituire un tavolo tecnico-politico per rilanciare la sede di San Marco di Castellabate.